Davide Gavazzi A Castellammare in vantaggio di 2-0 la partita sembrava già chiusa, poi forse nel secondo tempo c'è stata una ternana, vuoi anche per la volontà dell'avversario che si trovava di fronte ad un'ultima spiaggia per la permanenza in categoria, una ternana un po' troppo arrendevole, perlomeno è sembrata da noi sugli spalti, questa cosa l'avete riscontrata, il mister ha posto l'attenzione su questo? No, credo che se c'è stato un momento che comunque siamo stati un po' ingenui, un po' sicuramente non cattivi, si è stato subito dopo il 2-0 quando abbiamo un po' compromesso la partita con l'espulsione e abbiamo lasciato due o tre occasioni da gol, poi nel secondo tempo logicamente loro giocano il tutto per tutto, tentavano di portare a casa punti e soprattutto il risultato, però credo che sia stati bravi comunque a fare la nostra sul finale. Perché avete dimostrato che quando la ternana preme sa come premere e sta a far male contro qualsiasi avversario? Sì, diciamo che siamo partiti con determinazione, però diciamo che sicuramente potevamo comunque rendercela più facile, magari con più attenzione, sicuramente più cattiveria appena aver fatto i due gol. Senti, quando sei arrivato a gennaio la situazione moralmente diciamo che era quasi sotto i piedi, cos'è cambiato? Quando è che c'è stato questo scarto morale? Ma non so dirti, credo che sia comunque un continuo giorno per giorno, lavorando sicuramente bene, comunque con il mister nuovo, con tutti i ragazzi nuovi, stiamo progredendo pian piano e credo che si vedano i risultati man mano che andiamo avanti. Senti, al di là della quota salvezza che è intorno ai 50-52 punti, un occhio ai playoff. Hai detto bene, 50-52 quindi manca ancora tanto e dobbiamo fare sicuramente ancora tanto per guadagnarcela e quindi pensiamo solo a quello. Va bene, in bocca al lupo. Crepi, grazie.